Omicidio e suicidio a Ragusa, Simone Cosentino di 42 anni ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita con la pistola d'ordinanza, la coppia lascia due figlie, indagini in corso. Su 11 aziende controllate nel ragusano, solo una è risultata pienamente regola rispetto alle posizioni lavorative dei dipendenti, dal controllo della GDF è emerso un quadro allarmante. Partecipazione recordiera a Modica per i festeggiamenti in onore di San Giorgio, una grande folla ha accolto l'uscita del Santo Cavaliere e lo ha accompagnato fino al tironfale rientro. Impresa della Passalacqua che vince a Venezia e stacca e pars per la finale dei play-off, le ragusane partivano con gli sfavori del pronostico ma hanno tironfato, adesso si giocano tutto contro lo schio. Bentrovati con l'informazione di Canale 74, apriamo il Tg di oggi con la terribile tragedia che si è consumata nella notte a Ragusa. Un poliziotto di 42 anni ha sparato alla moglie di 33 anni e poi si è tolto la vita. Lasciano la coppia, lascia due figli. Sul caso, sull'episodio sono in corso indagini. Sentiamo. Sarebbe un dramma della gelosia quello che si è registrato nella notte a Ragusa. Gli inquirenti stanno ancora lavorando per fare piena luce su quello che sin da subito si è configurato come un omicidio-suicidio e al momento mantengono il massimo riservo. Simone Cosentino, 42 anni, assistente capo presso la questura di Ragusa, avrebbe sparato alla moglie e poi si sarebbe tolto la vita con la pistola d'ordinanza. Lei, Alice Bredice, 33 anni, originaria di Torino, è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue all'interno della sua abitazione. I due lasciano due bambine di 6 e 7 anni. Sarebbe stata una delle figlie a chiedere aiuto. In un recente post pubblicato su Facebook, Simone Cosentino diceva ad Alice di averle dedicato tutta la vita. Ti amo troppo, ha scritto. E commenti di questo tipo si trovano sotto diversi post pubblicati dalla giovane donna nel corso degli ultimi mesi. Cosa abbia spinto l'uomo a compiere il drammatico gesto non è stato reso ancora noto. Si parla di dramma della gelosia. Forse lei voleva lasciarlo, ma queste al momento sono solo ipotesi che non trovano riscontro. Rimane quindi al momento solo lo sgomento da parte di parenti, ma anche dei colleghi di Cosentino per questa terribile tragedia avvenuta nella notte nel capoluogo Ibleo. Simone Cosentino, poliziotto della sezione volanti, ha prestato in passato servizio in Piemonte, dove ha conosciuto Alice Bredice. Le prossime ore saranno decisive per fare piena luce sull'episodio che ha scosso e non poco l'intera comunità Iblea. Cambiamo adesso argomento, ci occupiamo di lavoro nero. Su 11 aziende controllate, una sola ENA in regola con le posizioni lavorative dei dipendenti. L'attività è stata svolta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa in diverse aziende di tutto il comprensorio ragusano. Il quadro che emerge è davvero allarmante. Sentiamo. Su 11 aziende controllate, una sola ENA in regola rispetto alle posizioni lavorative dei dipendenti. È il risultato di un'attività eseguita dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Ragusa, finalizzata al contrasto del fenomeno del lavoro nero e irregolare. Su varie aziende operanti nei comuni di Ragusa, Vittoria e Pozzallo. Complessivamente sono stati trovati intenti a lavorare 26 dipendenti, 15 dei quali erano irregolari e risultavano operare totalmente in nero, cioè privi della benché minima copertura previdenziale ed assicurativa prevista in caso di infortunio sul lavoro. In quattro delle aziende controllate è stato accertato l'impiego di lavoratori in nero, in misura superiore al 20% del personale presente sul luogo di lavoro, condizione che ha determinato anche la segnalazione per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività. L'attenzione dei finanzieri si è focalizzata in particolare su alcuni cantieri edili, anche presso località marine, un autolavaggio, due officine meccaniche ed una cooperativa che si occupa della lavorazione del cacao e del cioccolato all'esito dei controlli nei casi di irregolarità. Ai rappresentanti legali delle aziende sono state contestate violazioni amministrative che ammontano da un minimo di 30 mila euro ad un massimo di 230 mila euro. Dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, retto dal comandante Giorgio Salerno, sottolineano che continuerà l'attività delle fiamme gialle volta al contrasto del lavoro nero, anche al fine di recuperare l'ingente gettito sottratto alla contribuzione fiscale previdenziale ed assicurativa in danno degli stessi lavoratori. Chiudiamo questa ampia pagina di cronaca parlando di un incidente stradale autonomo che si è registrato a Comiso. Grave un 29enne. Ce ne parla Piero Burrugano. Un'Alfa 147 con alla guida un 29enne di Comiso si è schiantata su altre due auto in sosta, una Fiat Stilo e una Smart, in Viale Mediterraneo all'incrocio con Viale Manzoni nella piccola cittadina casmenea. L'incidente stradale si è verificato intorno alle tre di notte, tra sabato e domenica. Immediati soccorsi. L'uomo alla guida è stato subito trasportato in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato 30 giorni di prognosi per le lesioni riportate a causa del violente impatto. Solo tanto spavento e qualche lieve escoriazione per l'altro 29enne a bordo dell'Alfa 147 sul sedile passeggero. Intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi e per accertare l'esatta dinamica. Il traffico veicolare non intenso per via dell'ora tarda ha comunque subito dei rallentamenti, per il tempo necessario a liberare la carreggiata. Ci occupiamo adesso della vertenza della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Il 25% dei soci ha detto no al bilancio portato in assemblea dal Consiglio di Amministrazione. È la prima volta che si registra un dissenso così ampio ed è frutto della battaglia condotta dal Comitato degli Azionisti. A presidiare il Teatro Tenda, che ha ospitato l'assemblea, un numero elevato di poliziotti e carabinieri. Sentiamo. Il 25% dei soci della Banca Agricola Popolare di Ragusa ha detto no al bilancio portato in assemblea dal Consiglio di Amministrazione. È un dato storico. È la prima volta che un'assemblea dei soci si chiude con un dissenso così ampio. Che questa possibilità potesse verificarsi era nell'area, dato che ormai da tempo un comitato porta avanti la battaglia contro la classe dirigente dell'Istituto di Credito Ragusano, rivendicando il diritto a poter rivendere le azioni alla banca stessa. E quanto la situazione fosse tesa, lo si è capito dal cordone delle Forze dell'Ordine, che ha presidiato il Teatro Tenda di Ragusa, che ha ospitato l'assemblea dei soci. Alla fine non si sono registrate azioni eclatanti, c'era un po' di agitazione, ma è prevasto il buonsenso. Tra le relazioni che hanno riscosso maggiore successo, quella del neurologo Francesco Iemolo, che ha proposto al Consiglio di Amministrazione di far diventare soci tutti gli azionisti della banca, dando loro la possibilità così di essere maggiormente coinvolti nelle decisioni. Al termine dell'Assemblea, preseduta dal Presidente Arturo Schirinà e dal Direttore Generale Saverio Continella, in circa 500 hanno votato contro il bilancio presentato dal Consiglio d'Amministrazione. Tanti si aspettano adesso che questo manifestato di senso possa cambiare alcune dinamiche nel rapporto tra azionisti e il CDA della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Il Comune di Ragusa rende noto ai cittadini che a causa di un guasto Enel l'impianto di sollevamento lusia della rete idrica è momentaneamente disattivato, con conseguente diminuzione della disponibilità d'acqua. I lavori di riparazione sono già in corso. In diverse zone della città potrebbero quindi verificarsi dei disservizi nell'erogazione dell'acqua. Cambiamo adesso decisamente argomento. Partecipazione record ieri a Modica per San Giorgio. Una grande folla ha accompagnato l'uscita del simulacro dal Duomo e l'intera processione. I dettagli nel servizio. Grande festa a Modica per San Giorgio. Una mobilitazione suggestiva di fedeli e devoti che assieme a turisti e visitatori hanno formato un tappeto umano, soprattutto nel pomeriggio all'uscita del simulacro dal Duomo e in maniera ancora più consistente intorno a mezzanotte, quando il Santo Cavaliere è rientrato e ha dato inizio ai memorabili gira all'interno delle navate della Chiesa Madre di Modica. Tutto questo è molto altro ancora e è stata la fase finale dei festeggiamenti in onore di San Giorgio, martire e padrono di Modica, che ieri ha vissuto il momento clou, mettendo in rilievo la notevole affezione che l'intera comunità cittadina nutre nei confronti del Santo Patrono. San Giorgio ha tenuto intorno alle 17 la trionfale uscita, accolto dalla consueta acclamazione dei fedeli, oltre che dallo sparo di volantine e fuochi pirotecnici. Quindi ha avuto inizio la processione lungo il percorso tradizionale, che ha vissuto straordinari momenti di intensità caratterizzati anche da fasi di vera e propria emozione, ogni qual volta il simulacro si è fermato in prossimità delle abitazioni di persone anziane o che non potevano deambulare. Al passaggio della processione presso l'ex foro Boario di Via Fontana, un altro spettacolo pirotecnico a cui ha fatto seguito la calata dell'angelo, omaggio al Santo accompagnato da fuochi e musica. E poi, intorno alla mezzanotte, mentre la scalinata del Duomo era stracolma di visitatori, il trionfale rientro della processione, accolta dai fuochi artificiali, andata avanti per parecchi minuti. Nella mattina, a celebrare la messa, era stato il vesco di noto Monsignor Stagliano. Apriamo adesso un'ampia pagina di sport, partendo dal basket e dall'incredibile impresa della Passalacqua, che contro quello che dicevano i pronostici è riuscita a vincere a Venezia e stacca il pass per la finale play-off. È la seconda finale consecutiva, il servizio. La Passalacqua Ragusa vince e vola in finale play-off. Coachere Cupido imposta la partita perfetta e le sue atlete sono le interpreti autentiche di un gioco spumeggiante, soprattutto nel primo quarto, quando Embi e Armon risultano imprevedibili nei loro movimenti, precise al tiro e incontenibili. Venezia è sorpresa dalla partenza velocissima delle ragusane, che non mollano fino al ritorno negli spogliatoi per il riposo. Pressing, difesa serrata, transizioni micidiali sono state le armi che hanno consentito a Ragusa di prevalere e di meritare la vittoria, conquistando così la finale scudetto contro Schio. Venezia non ha saputo organizzarsi e trovare le misure giuste. Solo Carangelo è apparsa lucida. Steinberg, nonostante 19 punti e 8 rimbalzi, non è bastata. Le legunari si sono avvicinate almeno 8 alla fine del terzo quarto, ma Ragusa ha retto e ribattuto. La difesa ha tenuto grazie a Casser, Cinile e Consolini, che si sono sacrificate, ma che hanno trovato punti importanti nei momenti topici della gara. Ultimo quarto, con Venezia che si avvicina alla meno 5, ma il divalio resta e a Passalacqua si gode una vittoria che vale la finale, la quarta in sei anni. Primo quarto perfetto per l'Iblee, che mettono a punti segnandone 33 in 10 minuti e chiudendo sul più 20. Nel secondo periodo, Caster ed Embi firmano il più 27 della formazione bianco-verde, con Venezia in chiara difficoltà. La formazione di coach Liberalotto viene tenuta viva dall'iniziativa di Carangelo e da una tripla di Steinberg, ma il punteggio a metà gara recita un eloquente 35-56. Nel terzo periodo, la Reier colla massimo sforzo per rimontare. Steinberg e Sander sono protagoniste nel parziale di 9-0, che riporta la squadra di casa in partita, e nel finale dell'ultimo quarto, 5 punti di fila di Carangelo riportano le vete sotto la doppia cifra di scarto. L'ultima frazione è una battaglia. Venezia torna a meno 8 con De Pretto, Embi la ricaccia indietro. Gorini firma il 70-78, ma più volte la squadra di casa spreca la possibilità di riavvicinarsi. Ci prova Macchi con una tripla alla 43 secondi dalla fine, ma è tardi per le padrone di casa. A volare in finale sarà la Passalacqua Ragusa. Se la Passalacqua ride, la stessa cosa non può fare invece la Virtus che segna una battuta d'arresto tra le mura mica contro l'Orsa e Barcellona. Adesso le ragusane sono costrette a vincere gara 2. Ancora Piero Burrugano. Si aprono le danze delle semifinali play-off del campionato di basket di Serie C Silver e in un palapadua gremito di spettatori scendono in campo la Virtus Ragusa e l'Orsa Barcellona. Due squadre che negli anni si sono scontrate tante volte e che adesso si ritrovano una di fronte all'altra per strappare il biglietto che li porta in finale. Entrambi gli schieramenti scendono in campo con la consapevolezza che ogni errore può essere fatale in termini di risultato. I primi due punti dicono Barcellona per mano di Alberione, ma la Virtus risponde subito con Andrea Sorrentino. L'avvio è al cardiopalma. La Barcellona corre più veloce e tiene a distanza i padroni di casa grazie a Mancasola che da fuori aria non perdona. Anche Clifford finalizza sotto canestro. La difesa ospite è impermeabile ad ogni tentativo offensivo della Virtus. Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia. Il Barcellona continua la sua scalata in avanti e la Virtus si insegue a distanza. Gli uomini di Beto Manzo sono più precisi in aria e riescono a conquistare un break importante. I lagusani grazie alla capitano Sorrentino e a due sue triple consecutive prendono coraggio e cominciano a far girare maggiormente palla. Ma gli ospiti non si fanno trovare impreparati e marciano spediti in aria con le ottime giocate di Opalev. A due minuti dalla fine i barcellonesi riescono a mantenere un certo distacco dei lagusani. Salafia sotto canestro riesce a smarcarsi e finalizzare, ma non basta per rialzare la china. Al ritorno dal riposo lungo i padroni di casa rientrano in campo più aguerriti. Il gioco si fa più fluido e più dinamico sotto canestro. Salafia si fa più incisivo in aria e questo galvanizza la squadra. Anche in difesa il quintetto di coach di Gregorio si chiude, negando ogni tentativo ospite di realizzare. Alla fine del terzo quarto i ragusani sono più vicini agli ospiti. L'ultimo periodo si fa però più bollente. La posta in gioco è alta e nessuna delle due squadre vuole mollare la presa. I padroni di casa provano a mettere il piede sull'acceleratore. Salafia sempre protagonista sotto canestro, coadiuvato dai fratelli Sorrentino. Mette dentro punti che danno maggiore respiro alla squadra. L'ultimo minuto si gioca ad altissimi ritmi. Il distacco tra le due squadre è di quattro punti a favore del Barcellona. Si corre da una parte all'altra del campo. Una tripla di Alessandro Sorrentino riaccende le speranze dei ragusani. I barcellonesi non si fanno cogliere impreparati e grazie a tiri liberi dopo un fallo al loro favore chiudono la partita con il risultato finale di 52-56. È stata una partita, commenta Caldu il capitano Alessandro Sorrentino, in cui abbiamo perso lucidità regalando i primi due quarti al Barcellona. Tornati in campo dopo il riposo lungo però avevamo trovato maggiore compattezza di squadra, riuscendo a recuperare l'ampio break che si era creato. Abbiamo preso coscienza dei nostri errori e se riusciremo a giocare in gara 2 così come abbiamo fatto dal terzo quarto in poi, sono certo che possiamo battercela a viso aperto con i nostri avversari. Adesso bisogna lavorare soldo per preparare al meglio il prossimo incontro, cercando di trovare la lucidità che nelle partite importanti fa la differenza. Grande festa al Geodetico di Modica per l'ultima partita casalinga del Pro Volley Team. Le Modicane hanno battuto il Frosinone per 3-7 a 2 e consolidano il quinto posto in classifiche. Servizio. Vittoria al Geodetico per l'ultima esibizione del Pro Volley Team. Il sestetto di coach Scavino si congeda dai suoi tifosi con una vittoria di misura contro le ostiche laziali. I due punti servono per mettere al sicuro il quinto posto ad una giornata dalla conclusione del campionato. Traguardo di qualità per una neopromossa. Partita combattuta fin dal primo set con Frosinone che lotta su ogni palla. Si va avanti punto a punto fino al 20 pari, poi Frosinone con l'ottima Bottarelli trova i punti del vantaggio ospite. Si scuote il Pro Volley e va subito sul 7-2. Pirrone mette a segno alcuni punti per il 14-7 e il Pro Volley chiude il set a suo favore ristabilendo la parità. Terzo set sulla falsa riga dei primi due con le squadre che non si danno per vinte. Molti errori ma anche qualità in campo. Le Modicane allungano fino alla 3-19. Nonostante il recupero ospite, Modica si porta ancora avanti e Shire mette a segno i punti del vantaggio. Il quarto parziale vedo il Frosinone cercare subito il recupero. Allungo ospite sulla 7-11, poi si va sul 16-23 e il set va alle laziali. Si gioca il quinto set ma per Modica l'inizio non è dei più entusiasmanti. Poi il recupero bianco-rosso guidato da Fabio Laferro con un parziale di 6-1. Il Pro Volley si porta sul 10-16 grazie anche alle battute di Pirrone. Ci pensa Chiara Shire, prima con alcune battute velenose e poi con la schiacciata finale a dare il successo alle Modicane tra l'entusiasmo del pubblico. L'informazione di Canale 74 finisce qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.